Un ministro dell'ambiente del Partito Democratico raccoglie l'appello di due assessori regionali abruzzese del PDL e la peripetrazione della Costa Tatina salta ancora. Ma cos'è che la fa arrabbiare? Beh, prima di tutto leggere e dover io comunicare che il 26 luglio il presidente eletta ha sottoscritto un decreto con il quale viene prorogato il termine per la peripetrazione del Parco della Costa Tatina che scadeva, ricordo, a fine giugno scorso al 31 dicembre. La gazzetta ufficiale? Sì, perché l'ho trovato sulla gazzetta ufficiale online. Stranamente questi politici abruzzesi che ci tampinano di dichiarazioni su tutto quotidianamente si sono dimenticati di comunicarci questa cosa qui. Io credo che questo derivi dalla cattiva coscienza perché è più di un decennio che viene rinviato il Parco della Costa Tatina come perimetrazione. Cinque anni sostanzialmente che l'assessore Mauro Febbolo boicotta apertamente eppure gli si è data un'altra ciambella di salvataggio. Ricordo che erano scattati i termini per il commissoriamento che il governo, cioè il ministero dell'ambiente a guida PD, avrebbe potuto nominare un commissario che insieme alla regione e ai comuni avrebbe potuto procedere finalmente a perimetrare. Quello che è accaduto però in questo decennio è che intanto i processi di cementificazione della costa sono andati avanti. Mi pare chiaro sempre più che c'è da un lato Febbolo e il PDL che fanno gli antiparco e dall'altro lato il PD che dice che è a favore del parco ma poi fa sempre la spalla. Il risultato dell'azione di PD e PDL è che con il governo Monti hanno sbloccato Ombrina e con il governo Letta hanno rinviato un'altra volta, per l'ennesima volta, la realizzazione del parco.